Il Comune di Arezzo ha presentato ricorso al TAR contro la delibera di ANAC che aveva fatto decadere dal suo incarico il presidente di Estra, Francesco Macri. L'atto, come era stato annunciato dall'ente nell'immediatezza dei fatti, è stato depositato con la richiesta di sospendere gli effetti della delibera. Il documento, notificato agli interessati lo scorso novembre, si esprimeva in merito alla posizione di Francesco Macri e alla sua nomina alla presidenza della Multi Utility. Secondo l'organismo nazionale anticorruzione, Macri non poteva essere nominato con quelle tempistiche perché non era trascorso il tempo previsto dalla legge, due anni, dalla sua elezione alla carica di consigliere di Fratelli d'Italia Alleanza per Arezzo al Comune. Estra, secondo l'avvocato difensore di Francesco Macri, è invece da considerarsi una società di diritto privato sotto controllo pubblico, quindi il presidente dovrebbe essere reintegrato alla presidenza. Per questo anche lo stesso Macri ha presentato ricorso.